Lo fanno tutti finché sono giovani. Ma poi bisogna trovare una soluzione. A questo punto ci pensa Luccio Gardin. Buongiorno, siete pelati? Siete diversamente pettinati? Avete subito un'inversione termica per cui i capelli vi sono rientrati in testa e piano piano iniziano a uscire a ciuffetti dal naso e dalle orecchie? Nessun problema. Ho quello che fa per voi. Il ciuffetto da fichetto. È comodo. L'attaccatura non si vede nemmeno. Le prime 20 telefonate riceveranno in omaggio un giro in motoscafo dove potrete sfoggiare il vostro nuovo ciuffetto da fichetto e provarlo con l'aria vera del mare. Ricordate, il ciuffetto da fichetto è il must dell'estate. Vi verrà spedito in un'anonima e discreta confezione e nessuno in casa saprà mai il vostro segreto. E funziona davvero. Le bionde salteranno sul vostro motoscafo come i salmoni. Prenontatelo subito e in due giorni sarà a casa vostra in questa anonima e segretissima custodia. Nessuno saprà mai cosa c'è dentro.